Un saluto a tutti ragazzi, eccolo qua, eccolo qua, amore, il mio Michelangelo, adesso lo apro, aspetta un attimo, dai, aspetta, benvenuti a tutti ragazzi e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Hachette, la Ford Gran Torino di Starsky Hatch, un modello in scala 1 a 8, io l'ho già aperto prima per curiosare un po', le uscite per questo modello sono 120 e qui sono arrivate tre uscite, le tre uscite che si ripetono ormai dall'inizio della collezione, da quando si sono poi stabilizzate le uscite, sapete che le prime sono due e poi per certe collezioni quattro, addirittura cinque, queste sono rimaste sempre a tre. All'interno trovo quindi il numero 115, 116, 117 e qui all'interno il mio amore, Michelangelo, guardate soltanto questo fascicolo, eccolo, in che stato è, guardate questo fascicolo, in che stato è questo fascicolo, ed era all'interno, io non lo so veramente, a questo punto non ce li facessero pagare, riducessero il prezzo della collezione, figuriamoci, perché cosa servono i raccoglitori? Anche un raccoglitore, se non ricordo male, è costato sette ore, l'altro era in omaggio, che tra l'altro un raccoglitore si è anche rotto, l'anello non chiude più, ma guardate cosa devo mettere qua dentro, è vero che pochi saranno quelli che andranno a leggere i contenuti dei fascicoli, però veramente questa è una, questa è una totale mancanza di rispetto per noi che paghiamo, e paghiamo anche il servizio editoriale, tutto compreso, quindi andiamo a vedere il numero 115, che facciamo amore? Io ho già poco spazio qui, che vogliamo fare? Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi di continuare a contribuire a dar vita al canale, ringrazio e abbraccio tutti i miei abbonati che con i loro soldini mi aiutano a portare avanti le collezioni, grazie con tutto il cuore, se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato, date anche un'occhiata alla playlist, dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto, infine qualora ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi contatti privatamente, grazie. Michelangelo, come vi ho appena detto poco fa arriviamo fino al numero 117, quindi ancora un solo invio e anche questa collezione è finita. Poi anticipo che farò la 037 sia per me che per il mio iscritto Giovanni che mi ha commissionato il suo terzo modello, ho già fatto per lui la Lancia Stratos, sto facendo la Audi 4 e adesso iniziamo questo progetto nuovo, sia io che lui. Con l'Audi purtroppo sto ancora attendendo, mi sono arrivati diversi numeri che mancavano, però sto attendendo il numero 79 che è la parte centrale dell'auto dove devo andare a montare tutto il resto e quindi è per quel motivo, come vi ho detto anche in altri video che sono fermo. Farò l'Alfa Romeo. Ah, per quanto riguarda la 037 sono 132 uscite che è una cosa, non so che termine usare, non lo so, però è veramente assurda, assurda che le aziende siano arrivate a fare 132, 140 uscite, 150 uscite, veramente assurdo. È vero che ha mantenuto il prezzo di 11,99 a fascicolo che invece di 12,99 alla fine risparmiamo 130 euro perché le prime due uscite costano di meno, però l'uscita, la collezione dura almeno due anni perché probabilmente durerà, la faranno rimanere entro i due anni, ecco, perché daranno, parlo della 037, perché daranno più uscite, più di quattro uscite sicuramente al mese, altrimenti quando finiamo. Ma è anche vero che loro si prendono il diritto di poter aumentare il fascicolo durante la fase appunto della collezione, quindi poi siamo punta a capo. Ecco, io direi che una 037 poteva essere contenuta, ma per far contenti tutte e due, noi e loro, a 110 uscite come la Lancia Stratos e come l'Audi 4. Non capisco sinceramente o meglio, capisco che è per toglierci più soldi, ma è assurdo, è assurdo perché è una mancanza totale di rispetto, è un approfittarsi di chi acquista le collezioni, che è vero che siamo liberi di acquistarlo meno, però siamo modellisti, ci piace farle e loro lo sanno e quindi approfittano di questo ed è sbagliato. Scusatemi, all'interno troviamo il montaggio, la prima parte del montaggio del portellone del bagagliaio, quindi la parte interna, tanto poi qui andrò a farvi vedere anche la parte in metallo, questa è in plastica e la copertura quindi interna del portellone del bagagliaio. So che molti di voi l'hanno già completata, io non l'ho completata perché avendo più collezioni i soldi erano quelli e sono quelli che sono e quindi quando non pagavo chiaramente le uscite veniva bloccata la collezione, è ovvio no? Non è che ti mandano i numeri anche se non paghi quelli che ti hanno mandato prima, però piano piano ce l'abbiamo fatta. Ecco qui, il pezzo è vendiciato molto bene in plastica, qui abbiamo la linguetta di fissaggio della cerniera del portellone del bagagliaio, ne abbiamo due, eccole qui, metallo, questa è la base del sistema di chiusura del portellone del bagagliaio, in plastica verniciata, due viti EP, ovviamente si andranno ad avvitare essendo più plastica nella plastica e questo è il gancio di chiusura del bagagliaio. e questa è la mia unghia schiacciata dentro il portellone di un furgone, ecco qui, bene, vado quindi a presentare il numero 116, numero 116, lui è sempre lì che guarda... mamma mia che è veramente orribile questo fascicolo, guardate ragazzi devo stirarlo, non lo so. Seconda parte di montaggio del portellone del bagagliaio. All'interno tre serie di viti, tutte e tre sono da avvitare nel metallo XM, LM, WM, Ricordatevi dove necessario, ve ne accorgete quando andate ad avvitare la vite, se fa tantissimo sforzo nel crearsi il filetto nel metallo, mi raccomando usate un lubrificante, va bene, qualsiasi lubrificante, non usate l'olio da cucina, mi raccomando, perché poi il modello avrà un odore orribile orribile, mi raccomando, una volta che appunto l'olio essendo organico andrà in decomposizione, quindi state attenti. Preferisco dire delle cose molto scontate piuttosto che poi... qui abbiamo le due cerniere in metallo, L sinistra, R destra, perfetto, le due decalcomanie in rilievo Ford, una è data in più, ne basta appunto una se riusciamo a metterle in maniera corretta già la prima volta, e poi il portellone in metallo, eccolo qui, del bagagliaio, non ha alcun difetto, meno male, sorrido e vi dico perché. Magari è semplicemente un mio pensiero, però è l'unico pezzo in metallo che ho all'interno di questo penultimo invio ed era aperto. Secondo me Ascette, visto che sa che il buon Michele non si tiene assolutamente i pezzi pallati, ha controllato il pezzo prima di spedirmelo. Secondo me è così. Io la ringrazio perché di un portellone o più portelloni del bagagliaio rigati o comunque fallati non me ne faccio assolutamente nulla, grazie di averlo controllato perché questo è perfetto. Ve l'ho fatto vedere anche dietro ma insomma c'è poco da vedere perché questo va poi coperto col pezzo di plastica che abbiamo visto insieme prima. Se c'è amore, comunque questo sarà poi il montaggio finale, il risultato finale. Stai fermo! Ecco qui. E adesso anche un altro bel numero che all'interno troviamo i fanalini posteriori numero 117. Adesso te lo do, aspetta un momento, guarda, guarda qua. Adesso salta fuori a prenderselo. 117. Montaggio delle luci posteriori. La sua coda! Ma cosa fai? Ma quanto sei amore te! Il mio amico Michele che attende con ansia, come dice lui, lo sposalizio tra la parte superiore, tutta la scocca e il pianale, il telaio. Ma dovremo ancora attendere penso a tutto fine di settembre insomma per riceverlo. Comunque non ho fretta, non ho fretta ragazzi. Allora, sinistra L, destra R, perfetto. E' in plastica cromata. Questi invece cosa sono? Ah, questa è la guarnizione adesiva e morbida. Poi abbiamo cinque serie di viti, tre da avvitare nella plastica e due nel metallo, L, M, U, M nel metallo, Y, P, B, P e H, P nella plastica. Più, attenzione a questi due vetrini, che ovviamente sono in plastica, li chiamo vetrini, così, perché mi è venuto così, insomma. 117e, che sono i vetrini della luce della retromarcia. Però guardate come sono stati fatti bene. La lavorazione che hanno fatto da dentro è bellissima, guardate. Ecco, non è un semplice pezzo di plastica, quindi questi sono particolari che io apprezzo. Poi abbiamo queste, queste due parti, che ognuna rappresenta il vetro della luce posteriore, che in realtà è plastica, anche nella realtà. Poi, vediamo un po', qui c'è la cornuce, non vuol dire nulla, la cornice luce retromarcia sinistra, telaio luce retromarcia destra, ecco, quindi praticamente queste poi vanno montate così sopra, con i vetrini che abbiamo visto prima, da seguire chiaramente R con R, L con L, destra con destra, sinistra con sinistra. Ecco qui. E infine questo pezzo, clip di fissaggio dei cavi elettrici, ecco qui. Andiamo a vedere poi il risultato finale. in montaggio dovete fare molta attenzione a queste plastiche perché devono entrare bene, ma attenzione a non sforzare troppo perché sono abbastanza delicate, un po' come il cristallo. resistenti, ma attenzione. Qui andiamo anche ovviamente a mettere i led all'interno. fermo, amore. Allora. Ecco il risultato finale. Come vi avevo detto anche prima, ancora tre numeri e anche questa collezione è finita. Stavo pensando che non vi ho detto della balilla. Allora la balilla, che il mio amico Michele fa, che è bellissima, del 1932, la Fiat 503, se non ricordo male. È una macchina che farei perché ho della Poca e Riva Rossi anche modelli abbastanza vintage, no? Però siamo lì, ragazzi. Adesso aspetto gli ultimi sei invii del Mazinga Z, dopodiché inizierà il grande Mazinga. Attenzione, per quelli che vorranno non fare la continuazione, quindi non fare il grande Mazinga, dovete mandare un'email ad Asset, perché per tacito assenso, per cui se voi non scrivete che non volete il grande Mazinga, vi arriverà il primo invio del grande Mazinga. E quindi se non vorrete farlo, dovrete poi spedire indietro il pacco a spese vostre. Ecco perché inizia poi dal numero 101 e non dal numero 1 il grande Mazinga. Quindi attenzione, se volete fare la collezione e avete fatto l'abbonamento, non ci sono problemi, perché vi basterà pagare il bollettino del Mazinga Z e poi comincerà in automatico la nuova collezione del grande Mazinga. Ok? Ovviamente per quelli che non hanno fatto l'abbonamento il problema non sussiste, perché se non faranno l'acquisto in edicola mi sembra scontato. Detto questo, vi ho detto della duetto, della duetto si chiedo scusa, della Alfa Romeo GT alleggerita, Gran Turismo alleggerita e quella la farò. Sempre come dice Michele, un mio omonimo carissimo, è probabile che poi ci diano più avanti, ma questa è una supposizione, quasi una speranza, che siamo più avanti, alla fine della collezione, per quanto riguarda sempre Alfa Romeo, le decalcomanie per fare la competizione, insomma, speriamo, perché è più bella secondo me con qualche decalcomanie del tempo. Poi la 037 vi ho detto che ne farò due, una per Giovanni, il mio iscritto, che ringrazio ancora per la fiducia e per avermi commissionato anche questo modello, e una per me. E poi, adesso vi do anche un'altra notizia. una volta fatti questi tre video di questo montaggio, tre o forse due video basteranno, andrò anche a continuare finalmente i video della Ferrari 330 P4 di Lorenzo Bandini e Chris Hemon, perché mi mancava il numero 41. Mi è arrivato, li ho tutti fino al numero 51, quindi potrò continuare i montaggi anche di quella collezione. Per quanto riguarda la Ferrari 312 T4 di Gilles Villeneuve, ho tutti i numeri tranne che il numero 25, che non mi è mai arrivato e attendo, quindi mi manca quel pezzo per andare avanti. Ecco perché sono fermo. Per la Lancia Delta, la Livrea Martini di Micky Biasion e Tiziano Sidiero, mi manca il numero 12, gli altri successivi li ho tutti, ma non posso andare avanti nei montaggi. Vi sto dando questa spiegazione che ho dato anche in altri video, perché molti mi scrivono se ho abbandonato le collezioni. No ragazzi, non ho abbandonato le collezioni, i motivi sono questi che vi sto dicendo. Sono fermo per tali motivi. L'Audi 4, ve l'ho detto prima, mi manca il 79 che è la scocca centrale, poi li ho tutti, tutti, fino a quando appunto sono usciti, fino a dove siamo arrivati, insomma, con l'ultimo fascicolo che hanno pubblicato. E quindi anche reso a noi la possibilità di poterlo acquistare. Detto questo, se avete piacere seguitemi. Se volete condividere i miei video nei gruppi dedicati per aiutarmi, grazie. Chi vorrà abbonarsi al canale ci saranno sempre più cose importanti, secondo me, sempre per quanto riguarda il modellismo. Insomma, non sono né pane né acqua, per il nostro hobby, per il nostro piacere. Non so quanti di voi hanno visto nel video della Balilla la base, seppur in parte, perché è grande, l'ho fatta per una Poker Riva Rossi scala 1 a 8. E' precisamente l'Alfa Romeo 8C Mille Miglia Scuderia Ferrari 2006, che costruì all'età, era il 90, fatemi ricordare, era l'89, 89-90. Quindi avevo 23 anni, quindi parliamo di 33 anni fa. 33 anni fa e feci la base circa 25, quasi 30 anni fa, già in scala 1 a 8, riproducendo il parquet all'isca di pesce che c'è in camera dei miei genitori. Mi piacque moltissimo da subito quel pavimento e lo riprodusse appunto in questa scala, essendo 1 a 8 non potevo fare diversamente. E ho fatto vedere la base appunto nel video della Balilla, della presentazione del primo fascicolo. Chi avesse piacere di farsela fare, mi contatti privatamente, vi dico subito che c'è tantissimo lavoro, ogni pezzo non è acquistato con quelle barrette che vedete in vendita nei negozi di modellismo di balsa o noce o mogano, ma sono fatti un pezzo per pezzo, pezzo per pezzo da me, con la sega elettrica circolare, perché? Perché non li vendono di quella larghezza. Quindi io prendo proprio il quadrato o il rettangolo di legno e mi creo tutti i pezzi, ok? Poi chiaramente viene tutto ledigato, è tirato o a cera a seconda di quella che è la richiesta del cliente, ho dato un impregnante in coloro colorato e basta. È tutto lì. Farò anche delle basi differenti, riproducendo l'asfalto, farò delle basi, però questa è un'anticipazione, ma non so se troverò il materiale per fare il porfido. Il porfido è una pietra chiamata anche San Pietrino, perché è stata usata dai romani anche in piazza San Pietro e in quasi tutte le parti più vecchie, diciamo storiche di Roma. Anche da noi a Torino in qualche parte c'è, sono bellissimi, io trovo che sono bellissimi. Pensate che sono, una piccola curiosità, sono messi sulla sabbia un po' spessa, non è sabbia sottilissima, semplicemente posati a secco. Vengono chiamati scalpellini quelli che li posano. Venivano, io parlo degli anni Ottanta, quando lavoravo io nell'azienda, 80-81, venivano chiamati dal meridione. Arrivavano da Napoli quelli che venivano da noi. Si mettevano uno sgabellino con un legno centrale e stavano in equilibrio appoggiati su questo seggiolino, come quando si mungono le vacche. E quindi ecco, io li vedevo, mi ricordo che avevo 15 anni, avevano appunto un martello a scalpello dove prendevano questo materiale, appunto il porfido, e con delle lignole tese per i piani, scavavano la sabbia, semplicemente così, e mettevano il porfido sopra e lo battevano. Ed era bellissimo vedere quello che facevano. Poi viene presa una, chiedo scusa, non un rullo ovviamente, ma adesso mi sfugge il nome tecnico. Comunque è una lastra montata sopra un motore a scoppio, abbastanza pesante tutto l'insieme, e questa batte poi, vibrando, batte questo porfido, perché deve farlo scendere qualche millimetro, che si assesti bene. Poi con una pompa, con dell'acqua ovviamente, viene fatta filtrare all'interno della sabbia, che viene buttata sopra, più sottile, per andare a coprire gli interstizi, e quindi vi dicevo questo perché vorrei riprodurre una base, proprio così, però ecco, sarà difficile riuscire poi a creare dei pezzettini piccolissimi, perché si spezza, ecco. Mi viene un po' difficile ragionare, no ragionare, mi viene difficile riuscire magari a trovare un elemento che mi possa consentire di riprodurre una pavimentazione come quella, che sarebbe stupenda, secondo me. Quindi ecco, io cerco di fare qualcosa di nuovo, che in realtà è nuovo per voi, ma non per me, perché vi ho detto che avevo 23-24 anni quando ho iniziato a fare questi lavori. Spero che vi possano interessare, e prima ancora ovviamente piacere. Io adesso vi ringrazio del vostro preziosissimo tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari e tu cari, un saluto anche dal mio amore Michelangelo, ciao amore. Io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!